Nella presente lezione parleremo di come rappresentare una retta in proiezioni ortogonali. Diamone prima di tutto la definizione. Una retta è una linea infinita e come tale è costituita da infiniti punti che si susseguono nella stessa direzione. È priva di larghezza e di spessore. La retta viene indicata con una lettera minuscola dell'alfabeto. La retta viene rappresentata in proiezioni ortogonali attraverso le sue proiezioni e le sue tracce. Le tracce di una retta sono i punti in cui essa incontra i piani di proiezione. Vediamo di spiegare bene questo concetto. Immaginiamo di avere una retta nello spazio. Per semplicità la immagineremo nel primo diedro. Solo successivamente vedremo come rappresentarla quando si trova in uno degli altri tre diedri. Ricordiamo che i diedri sono i quattro settori dello spazio in cui i piani di proiezione PO e PV dividono lo spazio. Come rappresentare questa retta sui tre piani di proiezione? Orizzontale, verticale e laterale. Come sempre vediamo prima cosa accade solo sul PO e sul PV e solo successivamente vedremo come rappresentarla sul piano laterale PL. Anche perché la proiezione della retta sul PL può tranquillamente essere dedotta da quelle sul PO e sul PV e spesso può addirittura non essere considerata. La retta, per definizione, è costituita da infiniti punti. Come la geometria ci insegna, per due punti passa una ed una sola retta. Questo significa che se prendiamo due punti a caso sulla retta e ne determiniamo le proiezioni ortogonali sul PO e sul PV, unendo questi punti è possibile tracciare le proiezioni della retta sul PO e sul PV. Se chiamiamo R la retta da rappresentare, la sua prima proiezione viene chiamata R' la sua seconda proiezione. Naturalmente è possibile anche l'operazione opposta, cioè date le proiezioni della retta sul PO e sul PV, possiamo determinare l'esatta posizione della retta nello spazio. Normalmente, però, per tracciare le proiezioni ortogonali di una retta sul PO e sul PV non si utilizzano due punti a caso, bensì due punti particolari, cioè quelli in cui la retta R interseca rispettivamente il quadro orizzontale, il PO, e il quadro verticale, il PV. Questi due punti sono chiamati tracce della retta e vengono indicate con i simboli T1 e T2. La prima traccia T1, o traccia orizzontale, è quella in cui la retta taglia il PO. La seconda traccia T2, o traccia verticale, è invece quella in cui la retta taglia il PV. Conoscendo le due tracce T1 e T2 della retta, è possibile trovare le sue proiezioni ortogonali. Basterà condurre due linee perpendicolari da T1 e T2 alla linea di terra, determinando così T2 e T2. T2 è la seconda proiezione del punto T1. Poiché tale punto si trova sul PO, T1 coincide infatti con la sua prima proiezione. T2 è invece la prima proiezione del punto T2. Poiché tale punto si trova sul PV, T2 coincide infatti con la sua seconda proiezione. Congiungiamo le prime proiezioni tra loro, cioè T1 con T1 di 2, e le seconde proiezioni tra loro, cioè T2 con T2 di 1. Si ottengono le proiezioni R' ed R' della retta. La R' è la proiezione sul PO, ricavabile unendo le prime tracce. La R' è la proiezione sul PV, ricavabile unendo le seconde tracce. Più frequentemente accade però il contrario, cioè assegnate le proiezioni ortogonali della retta, viene chiesto di determinarne le tracce. Determinare le tracce di una retta è sempre importantissimo, soprattutto nei problemi di appartenenza, che vedremo più avanti. Assegnate dunque le proiezioni ortogonali della retta R', R' ed R'', T1 e T2 si determinano prolungando le due proiezioni fino alla linea di terra. Laddove la seconda proiezione incontra la linea di terra, la si trova T'1. Laddove la prima proiezione incontra la linea di terra, la si trova T'2. Da T'1 e T'2 si conducono le perpendicolari alla linea di terra, fino ad incontrare le proiezioni R' ed R' della retta. Là si trovano rispettivamente le due tracce T'1 e T'2. T'1 è la traccia sulla prima proiezione R''. T'2 è la traccia sulla seconda proiezione R''. Se questo video vi è piaciuto potete trovare la trascrizione di questa lezione nel mio blog dedicato al disegno tecnico. Sempre nel blog sono presenti tantissime altre lezioni e tanto materiale didattico da scaricare. L'indirizzo è aliceappunti.altervista.org.blog. Il link è comunque presente nella descrizione del video. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.